Come forza politica Cardano al Campo siamo stati interpellati da cittadini che sono rimasti disgustati da quella che è la situazione che si protege da anni e che obiettivamente credevamo fosse stata risolta da tempo. Le toalette in questo parco sono in una situazione raccapricciante, inavvicinabili proprio. Visto che il parco serve ai bambini, ai nonni e alle persone che vogliono spendere cinque minuti in un parco a Cardano mi chiedo come mai e in capo a chi è la gestione di queste toalette? Al bar che occupa uno spazio commerciale al suo interno o a un organo di controllo che è l'ente locale, che è il comune. Questa amministrazione è stata sollecitata anni fa su questo problema e ancora oggi non l'ha risolto. Pertanto è la domanda che si fanno i cittadini a Cardano, lo chiedo anch'io all'amministrazione. Cosa intendete fare?